quando si parla di andrea mantegna si parla di un artista assolutamente fondamentale per l'evoluzione dell'arte e della pittura nato nel 1431 figlio di un umile falegname di periferia mantegna è stato un genio precoce nella pittura forse come mozart lo fu nella musica l'artista verso il 1459 entrò al servizio dei signori di mantova in veste di pittore di corte della famiglia gonzaga e questo lavoro fu dipinto proprio per loro la vergine maria si trova sul suo letto di morte circondata da 11 apostoli la scena rappresenta l'ultimo istante della sua vita sulla terra secondo i vangeli apocrifi una serie di testi esclusi dalla bibbia dopo la morte terrena il corpo e l'anima di maria sono stati trasportati in cielo da gesù questo momento è anche conosciuto come la dormizione della vergine in quanto maria non sarebbe veramente morta ma soltanto caduta in un sonno profondo prima della sua salita in cielo l'episodio si svolge in una semplice stanza con un pavimento marmoreo a scacchiera ed è contenuta da pilastri che in origine reggevano delle arcate oggi perse con parte del dipinto domina la metà inferiore dell'opera il letto di maria con le sue linee orizzontali mentre intorno a esso gli apostoli stanno celebrando la cerimonia funebre al centro vediamo san pietro intento a leggere le sacre scritture affiancato da due apostoli di cui uno regge un vaso d'unguenti un altro apostolo di spalle rispetto a noi si protende verso il corpo di maria per spargere incenso chiudono la scena altri apostoli nell'atto di cantare e reggere delle candele sono molti i dettagli a conferire un grande realismo all'opera dalla naturalezza dei gesti delle mani e delle posizioni dei piedi delle figure all'uso di aureole viste di scorcio dalle pesanti tuniche che mostrano l'anatomia delle figure ai riflessi metallici dei due grossi candelabri in quest'opera la composizione è dominata dalla ricerca di prospettiva e profondità ottenuta principalmente attraverso il motivo geometrico della pavimentazione dalla diversa dimensione delle figure e dalla finestra nella parte posteriore che funge da punto di fuga dove convergono cioè tutte le linee prospettiche è inoltre notevole qui la forte personalità delle fisionomie dei singoli personaggi e la resa magistrale del paesaggio infatti questo è uno dei primi dipinti italiani in cui viene rappresentato un luogo ben riconoscibile attraverso la finestra scorgiamo una veduta del borgo di san giorgio e della laguna di mantova se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao